Rete Imprese Italia è la sfida delle reti locali. I vicepresidenti di Confartigianato leggono in chiave territoriale l'accordo del Capranica. Impossibile pagare le tasse entro il 16 giugno. Federalismo, una riforma possibile a confronto con Luca Bianchi. Sempre più complicata per gli impiantisti la gestione dei rifiuti tecnologici. Bentornati al Tg di Confartigianato. Il 10 maggio scorso le sigle dell'artigianato e del commercio hanno dato vita a Rete Imprese Italia, il nuovo soggetto per la rappresentanza unitaria della micro e piccola impresa. Se a Roma semplificherà, e di molto, i rapporti tra rappresentanza e istituzioni, a livello territoriale che cosa succederà? Lo abbiamo chiesto ai tre vicepresidenti di Confartigianato Imprese, con tre diversi appuntamenti settimanali dedicati proprio ai territori italiani. Il primo confronto è con Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato Lombardia. Nel servizio che vedremo di Fabrizio Cassieri, un'anticipazione del colloquio che troverete in versione integrale nella sezione interviste della nostra area web. A Roma è nata Rete Imprese Italia. In molti territori del paese però esistono già alleanze per una rappresentanza più qualificata degli interessi della micro e piccola impresa. Presidente Merletti, in Lombardia qual è la situazione attuale? In Lombardia ci sono delle esperienze estremamente positive. Era già sedimentato rappresentanza del territorio e da lì ci siamo mossi. Una per tutti, non cito la mia provincia perché non è giusto, penso Bergamo. Imprese territorio aggrega nove sistemi associativi che vanno dall'artigianato, piccola industria, cooperazione, agricoltura, eccetera. Hanno ottenuto dei risultati importantissimi sulla rappresentanza, quindi Camera di Commercio, eccetera. Quello che secondo me è estremamente importante, in Lombardia, uno dei quattro motori d'Europa, spingere per avere una soluzione del genere e personalmente lo farò, diventa dirompente perché è un modello esportabile che oltretutto aiuta il sistema di rappresentanza, quindi il sistema aggregato a livello centrale di Roma, ma è anche un messaggio rispetto all'Europa, dove vengono comunque confezionate delle norme e delle leggi che poi a ricaduta arrivano sul territorio. Quindi pensare di portare questo modello positivo anche a livello europeo secondo me è estremamente importante. Non è ancora disponibile il software per calcolare imposte e contributi che le imprese devono versare entro metà giugno. Rete Imprese Italia fa pressione sul Ministro Tremonti per ottenere la proroga della scadenza ed evitare pesanti multe agli imprenditori. Lorenza Manessi. Siamo alle solite. Anche quest'anno pagare le tasse è una corsa contro il tempo. A pochi giorni dalla scadenza del 16 giugno il Ministro Tremonti ha finalmente firmato il decreto di approvazione del cosiddetto gerico, il software per calcolare imposte e contributi dovuti dagli imprenditori ai quali si applicano gli studi di settore. Ma al momento permangono dubbi e perplessità sui modelli da utilizzare per gli obblighi fiscali. Il ritardo quest'anno è giustificato dai correttivi congiunturali approvati soltanto lo scorso 31 marzo dalla Commissione degli Asperti e necessari affinché i risultati degli studi di settore tengano conto della crisi e rispecchino il più fedelmente possibile la reale situazione economica vissuta dalle imprese nel 2009. Fatto sta che per gli imprenditori sarà molto difficile rispettare la scadenza del 16 giugno e così dovranno pagare una maggiorazione dello 0,40% su quanto dovuto per il periodo d'imposta 2009 e sugli acconti per il 2010. Con Fartigianato e le altre confederazioni che costituiscono Rete e Imprese Italia hanno preso carta e penna e hanno scritto al Ministro Tremonti per sollecitare una proroga indispensabile per evitare alle imprese di sborsare multe ingiustificate. Ma non solo. Quest'anno, sostiene Rete e Imprese Italia, il rinvio è tanto più necessario per consentire agli imprenditori, che non dovessero riconoscersi nei risultati dello studio di settore, di non adeguarsi al volume dei ricavi stimato. Ora non resta che aspettare la risposta del Ministro Tremonti e sperare che la proroga non arrivi sul filo di lana, cioè proprio a ridosso del 16 giugno. Continuiamo l'approfondimento sul tema del federalismo, di cui proprio in questi giorni il Governo ha approvato il primo dei decreti attuativi. Questa volta la riforma è vista da sud. Dopo il professor Ricolfi, il ciclo di incontri organizzati da Confartigianato continua questa settimana con Luca Bianchi, vice direttore generale della Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Secondo Bianchi, sono tre i criteri cardine che devono guidare la riforma federalista, trasparenza, responsabilità, efficienza. In gioco c'è l'obiettivo di innalzare la qualità della spesa pubblica e dei servizi per cittadini e imprenditori. Lorenza Manessi lo ha intervistato. Anche di questa intervista è disponibile la versione integrale nella sezione interviste della nostra pagina web. Dottor Bianchi, il federalismo può essere l'occasione per il riscatto del sud e per dare soluzione finalmente ai problemi che lei ha anche denunciato nel suo recente libro Ma il cielo è sempre più su? Il federalismo è una riforma importante, è importante soprattutto per il Mezzogiorno, nel momento in cui riuscirà a introdurre dei cambiamenti rilevanti soprattutto nella pubblica amministrazione. Il sud adesso è paradossalmente l'area che ha più bisogno di riforme. È l'area in cui introdurre meccanismi di cambiamento non solo è necessario ma anche conviene al sud perché attualmente abbiamo un livello di spesa per abitante sostanzialmente simile tra nord e sud e abbiamo una differenza, una qualità di servizi enorme. Vecchi televisori, piccoli e grandi elettrodomestici fuori uso, computer e anche lampadine, i rifiuti elettrici ed elettronici in casa hanno le ore contate. Ad agevolare il loro smaltimento ci penserà il cosiddetto uno contro uno, il decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente che apre una nuova stagione nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A frenare gli entusiasmi però sono le nuove procedure e gli adempimenti introdotti dal decreto che penalizzano riparatori, installatori e centri di assistenza tecnica. Ci spiega tutto Ivan De Menego. Le discariche improvvisate lungo il ciglio della strada potrebbero avere le ore contate. Scatta l'operazione uno contro uno. Dal prossimo 18 giugno chi acquista un elettrodomestico nuovo potrà consegnare quello vecchio al distributore che provvederà a rottamarlo gratuitamente. Una novità contenuta nel decreto ministeriale 8 marzo 2010 che mette un freno alla dispersione nell'ambiente di televisori, lavatrici, forni che spesso escono di casa per finire direttamente a bordo strada o nei campi piuttosto che nei centri di raccolta. Una sana e bella abitudine quella della raccolta e del riciclo dei cosiddetti RAE. Ma chi pagherà il conto dell'uno contro uno? Insieme ai commercianti che dovranno attrezzarsi per il ritiro, lo stoccaggio e il trasporto degli apparecchi fuori uso se lo chiedono anche agli impiantisti e centri di assistenza tecnica che vedono profilarsi all'orizzonte nuove complicazioni burocratiche e nuovi costi. Poniamo il caso di un installatore di impianti. Finora, per gestire gli scarti, ha dovuto iscriversi all'albo di gestori ambientali e, nella maggior parte dei casi, anche al Sistri, con una spesa annuale di 170 euro. Ora dovrà versare altri 50 euro per registrarsi nella nuova sezione dell'albo che abilita il trasporto di elettrodomestici rotti e poi gestire con procedure separate i rifiuti prodotti nelle proprie attività da quelli prodotti da terzi. Una frontiera in molti casi troppo labile per essere definita con precisione. Problematiche che è confartigianato evidenzato dalla segretaria tecnica del Ministero dell'Ambiente. La Confederazione, in un documento, contesta la triple iscrizione, etichettandola come difficilmente giustificabile, e definisce il nuovo sistema eccessivo e ridondante. Poi una proposta, una sola iscrizione che abilita la gestione di tutte le tipologie di rifiuti che installatori, centri di assistenza tecnica e riparatori si trovino a gestire nelle rispettive attività d'impresa. Udine, 25 maggio, l'Italia dei piccoli. Donne impresa e giovani imprenditori a confronto con il giornalista Dario Di Vico. Sandonà di Piave, Venezia, 27 maggio. Alvia il progetto Azienda Sicura. Presentazione dell'intesa tra Inail e confartigianato. Terni, 31 maggio. Le imprese di costruzione scendono in piazza. Manifestazione di protesta contro le norme sullo smaltimento rifiuti. Bene, anche per oggi è tutto. In chiusura, come sempre, l'appuntamento con i numeri e le statistiche dell'ufficio studi di confartigianato. Il numero della settimana. 24,6. È il numero di imprese artigiane ogni mille abitanti. Un dato particolarmente significativo. Un numero sorprendente soltanto per chi non crede che l'artigianato rappresenti la base culturale, sociale ed economica del nostro paese. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre sul sito di Confartigianato. Buona settimana! Grazie a tutti! Grazie a tutti!